buongiorno a tutti benvenuti o bentornati sul canale io sono stefano e oggi sono venuto a fare due passi in montagna per testare la gopro 9 hero black la mia nuova compagna di viaggio anzi di viaggi acquistata pochi giorni fa in un negozio di elettronica in svizzera la camminata di oggi la sto facendo alla tête d'éran nel cantone di neuchâtel luogo che avevo già visitato anche in inverno quando avevo fatto la ciaspolata vi lascerò anche il link in descrizione in alto a destra nelle menù a tendina posto fighissimo e adesso appunto non perdiamoci in chiacchiere e facciamo vedere un pochettino di paesaggi buona visione buona visione le immagini parlano da sole c'è un po' di vento infatti non posso far volare il drone se no mi partirebbe via guardate che bel paesaggio e adesso saliamo su al ripetitore dove c'è quella grande antenna perché aveva già dato un'occhiata al mio video ho girato qui in inverno su di qua sono salito con le ciaspole e volevo anche ringraziare tutte le persone che sono iscritte al mio canale grazie mille e per tutte le persone che guarderanno questo video se non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate magari anche un commento se il video vi piacerà è un po' di più qui siamo arrivati in vetta alla montagna appunto dove c'è l'antenna ripetitore qui sotto proprio sotto all'impianto della seggiovia c'è il parcheggio dove ho lasciato la macchina quindi esattamente di là c'è una montagna che si chiama lo chasserale una montagna che vorrei visitare ma prima o poi ci andrò a fare una camminata qui abbiamo la vista sulla Chaud Fond proprio nei pressi della frontiera con la Francia quindi siamo proprio a qualche chilometro alla Francia scendo da qui facendo attenzione perché il percorso è un po scivoloso guardate che paesaggi proprio da cartolina si inizia già a vedere il parcheggio dove ho lasciato la macchina proprio qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento e ci vediamo con il prossimo video ciao